Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibuck.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore che ti guideranno alle radici dell'inconscio. Come si raggiunge la sicurezza nell'uso dei fiori di Bach? Questa è una domanda fondamentale la cui risposta andiamo a vedere insieme oggi. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Allora, come si raggiunge questa benedetta certezza nell'uso dei fiori di Bach? In realtà le risposte che vengono date in letteratura sono sempre semplicistiche. Perché? Perché quando noi leggiamo i libri di base che troviamo in giro sui fiori di Bach quello che ci viene detto è più familiarizzi con i concetti sui fiori di Bach e più saprai usare i fiori in maniera semplice, in maniera facile per te, per i tuoi familiari e quant'altro. In realtà la risposta corretta a questa domanda è un'altra. Come si raggiunge la sicurezza nell'uso dei fiori di Bach? Si raggiunge raggiungendo la certezza di ascoltarsi nel modo corretto e quindi interpretare le proprie emozioni quando emergono in noi. Questa è la risposta corretta che non viene quasi mai data e che invece è la risposta fondamentale. Perché? Perché se io conosco i 38 fiori di Bach amenadito ma non so se provo paura o provo tristezza o provo rancore o provo una delle tantissime emozioni dello scibile umano non so poi applicare i fiori corretti su di me. Quindi prima di dare i fiori agli altri su una base teorica sarebbe bene fare un grandissimo approfondimento di conoscenza delle proprie emozioni che è proprio quello che facciamo noi nei nostri percorsi. Perché? Perché bisogna da una parte imparare la teoria dei fiori quindi sapere che cosa fanno i fiori di Bach. Willow per l'amarezza differisce da Pine per il senso di colpa. Ma come faccio a sapere se io in questo momento provo amarezza e quindi risentimento oppure senso di colpa? Visto che sono due stati che conducono una percezione che può essere non compresa all'interno della persona proprio perché quando una persona soffre o sta poco bene o è in una situazione energetica di disabilità quindi ha meno energia di quella che dovrebbe avere tutti i confini diventano un po' più offuscati e quindi è molto meno facile quando siamo in preda delle emozioni negative che noi proviamo scegliere i fiori di Bach per noi stessi. Per questo la risposta corretta è studiare allo stesso tempo me e i fiori di Bach in modo che dopo un apprendimento di quelle che sono le emozioni che io realmente provo quindi non serve soltanto capire cosa provo ma serve anche dare un nome a quell'emozione e questo è un lavoro che noi facciamo nei nostri percorsi sia in quelli di base che in quelli avanzati proprio perché ci siamo resi conto che la differenza sta proprio in questo. La differenza nella certezza o nel dubbio sulla somministrazione floreale deriva dal sentire e riconoscere dentro di me che il risentimento è diverso dalla rabbia come l'apatia è diversa dal rimorso che è diversa dalla malinconia e quindi capisci no che c'è un'esplorazione interiore da fare per andare a cogliere degli stati e capire come conseguenza quali fiori di Bach applicare perché in realtà io mi rendo conto dai feedback che ricevo da voi tramite i video via mail e da tutti i miei clienti che la difficoltà sta proprio nel tradurre in un linguaggio come mettere un'etichetta qual è lo stato interiore che io provo in quel momento perché quando sono dentro quello stato la prima naturale conseguenza è che io ho il dubbio di che cos'è quello stato e che fiori devo andare ad applicare proprio perché in un momento di disagio questa cosa è molto più difficile e richiede semplicemente più pratica. Se vuoi approfondire i fiori di Bach e ricevere tutti i contenuti gratuiti riservati ai nostri iscritti oltre a un ebook da scaricare di 140 pagine sui fiori clicca il link che trovi qui sotto nelle note grazie ciao